Qualcuno accusa gli effetti della didattica a distanza e non vuole più uscire di casa, altri neppure si connettono per le lezioni, dando la colpa alla mancanza di connessione. E poi c'è chi diventa aggressivo. Gli alunni in età scolare, compresi i più piccoli, stanno soffrendo un disagio psicologico, insomma a tutti gli effetti, e in questi due anni di pandemia sono cresciuti anche i casi di cyberbullismo. I dati infatti stupiscono anche su questo concetto, in quanto oggi, analizzando ad esempio il fenomeno del cyberbullismo, che è anche adesso un atto criminale, si evidenzia che due ragazze su dieci sono in grado di promuovere azioni prevaricatrici e violente verso gli altri. E sono due su dieci appunto a capo di piccoli gruppi, delle famose baby gang, tutte al femminile. Questo ci sta a indicare che c'è una parte della popolazione che sicuramente sta vivendo un cambiamento anche a livello di comportamento sociale. E le ragazze, soprattutto delle generazioni Z, che sono quelle che vanno tra i 16 e i 26 anni, hanno a volte degli atteggiamenti aggressivi che possono rivelarsi preoccupanti. In tutto questo la piaga sociale che purtroppo ci caratterizza da anni, il cyberbullismo, è un fenomeno che ci pone costantemente in attenzione per i dati allarmanti che ancora ad oggi si trovano. Ma soprattutto il dato ancora più preoccupante è che questa popolazione sta scendendo, coinvolgendo anche i ragazzi tra i 5 e i 10 anni. Ora, per poter perlomeno indagare questo disagio, le famiglie hanno a disposizione fino a 600 euro da spendere nel 2022 per andare dallo psicologo. Potranno accedere gli italiani senza distinzioni di età, dopo prescrizione medica e diagnosi del disagio sarà riconosciuto per fasce di ISEE fino ad un massimo di 50.000 euro. Oggi la psicologia ha cercato di rispondere anche a queste motivazioni, di questi comportamenti illeciti e illegali. Una caratteristica importante è quella che è la relazione e la comunicazione che avviene attraverso il mondo digitale. Come sappiamo in qualche modo il mezzo digitale crea una sorta di protezione, a livello psicologico crea una sorta di zona di comfort dove il ragazzo e la ragazza possono pensare di essere meno raggiungibili, di poter essere in grado di nascondere la propria identità nella maniera più semplice e quindi possono attuare anche a livello psicologico quelle azioni di maggior coraggio rispetto a quello che farebbero in una relazione faccia a faccia. Quindi questa amplificazione di coraggio e di gestione della situazione facilitata dal mezzo digitale può alimentare questi comportamenti dove non viene tenuto in considerazione il fatto di poter essere in qualche modo trovati e scavati in questo comportamento illecito. Le cause sono mutevoli e sono molteplici, soprattutto il periodo del Covid che abbiamo vissuto ha portato anche conseguenze nelle crisi economiche all'interno delle famiglie. Anche questi sono stati elementi che sicuramente hanno minato la tranquillità e l'equilibrio interfamiliare delle nostre società.